Bene, buonasera a tutti. L'incontro di oggi è organizzato dal CEDOX, con il sostegno della provincia di Bolzano, l'assessorato alla cultura italiana, in particolare l'ufficio educazione permanente. Rientra in un progetto provinciale dal titolo E3, Ecologia, Etica, Equilibrio, insieme e uniti per un futuro vivibile. Un progetto che coinvolge diverse agenzie di educazione permanente e per la quale questa sera ho il piacere di dare la mia presentazione. Il nostro incontro odierno tratterà il tema dei distretti biologici. Vorrei portarvi a valutare una possibile visione dell'Alto Adige del futuro da questo punto di vista. Io mi chiamo Andrea Omizzolo, sono ricercatore senior per Eurac Research, l'Accademia Europea di Bolzano, l'istituto in particolare è quello dello sviluppo regionale, sono un pianificatore del territorio e un esperto di sviluppo sostenibile per le aree montane. Tra le altre attività mi occupo anche di sostenere le attività del nostro istituto che riguardano le produzioni biologiche e di qualità, le produzioni biodinamiche, in generale dal punto di vista della ricerca di quelle produzioni di alta qualità che permettono al territorio di essere maggiormente resiliente rispetto ai megatrends neanche negativi che stanno caratterizzando il nostro periodo storico e il nostro territorio e crediamo fortemente che alcune scelte specifiche, pur sapendo che non sono soluzioni definitive ai problemi del nostro periodo, sicuramente si inseriscono in un sistema di discussione, in un momento in cui è necessario discutere e valutare ogni possibile proposta per mantenere la residenza del nostro sistema e aumentare la qualità delle nostre produzioni e del nostro vivere quotidiano. Vi parlo di distretti biologici perché cos'è un distretto biologico? Il distretto in sé è un'area geografica, quindi un biodistretto è a sua volta un'area geografica. Di distretti in senso generico ce ne sono tanti, sono prevalentemente quelli industriali, quelli più noti, il distretto della scarpa, il distretto della tecnologia, il distretto della sedia, il distretto del legno che c'è nella nostra provincia, ci sono tantissimi distretti, tra cui anche quelli enogastronomici per esempio. Esistono anche i biodistretti, sono una novità e sono legati a uno specifico territorio, quindi in questo senso ancora una volta è centrale la definizione di distretto bio, cioè un'area geografica votata al bio. È un'area geografica in cui si stabilisce una particolare situazione, una alleanza tra diversi attori, in particolare gli agricoltori, i cittadini, gli operatori del turismo, le associazioni e le pubbliche amministrazioni. Rappresentano in poche parole una nuova forma di organizzazione o di auto-organizzazione del territorio, in cui questa pluralità di soggetti, tutti differenti per motivi diversi evidentemente, sia pubblici che privati, è chiamata a contribuire allo sviluppo locale, partendo dai valori specifici dell'agricoltura biologica. A questo è destinato, all'agricoltura biologica, a prescindere da ogni forma di discussione sul bene o il male che il biologico può portare nel nostro paese. Parte dalla considerazione che evidentemente il biologico o le situazioni legate al biologico hanno portato un cambio di passo in alcuni territori, c'è una forte domanda di produzioni biologiche, si parla di biologico sempre di più, molte produzioni sono legate al biologico, pur non sapendo se è veramente biologico o meno, se questo faccia bene, l'economia si faccia bene, la società, eccetera, però questo è il motivo per cui si parla di biodistretti. Area geografica legata a un sistema di attori che lavorano assieme per la promozione dell'agricoltura biologica. Non solo, ma anche biologico, ma il biologico nel suo senso più ampio, comprende quindi anche, dato che è per lo sviluppo locale, anche il recupero delle tradizioni, delle tipicità, delle produzioni, la tutela dell'ambiente e una valorizzazione a 360 gradi del territorio. Si tratta quindi di un'agricoltura biologica, dove questi attori stringono un accordo per la gestione delle risorse, dentro ci sono cittadini, ci sono amministrazioni, associazioni, la parola che è anche un leitmotiv di tutti gli incontri che la provincia sta organizzando è sostenibilità, si parla di filiere corte, di prodotti tipici, di tipicità locali, di produzioni locali, di agricoltura di qualità, di un aumento della biodiversità e della sua tutela, della tutela dell'ambiente e tutto questo in una chiave di lettura che è la metodologia di produzione biologica. Ha la valorizzazione come obiettivo, si tratta di soddisfare le esigenze dei produttori con la ricerca di mercati locali attraverso l'attivazione di processi di servizi integrati, del riconoscimento anche, del ruolo dell'agricoltore che fa l'agricoltura biologica, ma allo stesso tempo anche del consumatore finale, che è maggiormente attento alla sicurezza alimentare, che vuole conoscere i prodotti che mangia, un consumatore che può essere anche visto in un'ottica turistica, quindi un consumatore, tra virgolette, passatamente a termine del territorio e quindi legato a una conoscenza delle produzioni del cibo, di dove vengono prodotti, di qual è il processo di produzione, la ricerca di prezzi equi anche per il coinvolgimento, questo ovviamente è anche delle istituzioni pubbliche perché quando si parla di prezzi e di territorio, di superfici, di tipologie di produzione, si parla anche di questo. Quindi il stato biologico è una forma evoluta di considerazione di un territorio con la chiave della produzione biologica. vi dico questo perché il biologico può essere letto ovviamente da diversi punti di vista. Per molti è la soluzione di ogni problema. Produciamo biologico, mangiamo sano, punto fine. Personalmente non sono assolutamente d'accordo, ci sono molte persone, molti ricercatori, molti esperti, molti politici che la pensano diversamente. Perché? Perché ci sono diversi studi che mostrano chiaramente come la resa dell'agricoltura biologica è inferiore evidentemente a quella estensiva produzione di massa o comunque maggiormente legata ad altre forme produttive, anche dal 20 al 70% in meno. A seconda della tipologia di cultura. L'agricoltura biologica non sempre tiene in considerazione le innovazioni del settore e questo ovviamente significa anche una perda di resa. Se dunque si decidesse di puntare sull'agricoltura biologica e soltanto sull'agricoltura biologica, da sapere prima, quindi nella nostra discussione è una cosa da sapere prima, che ci potrebbero essere alcuni problemi che riguarderebbero la sovranità alimentare, perché se produco di meno devo importare una maggiore quantità di cibo da fuori, provincia, regione, area, geografica e questo ha degli impatti. Quindi non siamo più, non puntiamo più a una sovranità alimentare, cioè produciamo e consumiamo lo stesso quantitativo di alimenti. Cioè consumiamo quanto produciamo, sovranità alimentare, siamo i sovrani di noi stessi a livello alimentare. Quindi dovremmo importare, siamo ovviamente condizionati dal mercato che produce quel tipo di prodotto di cibo. Ovviamente questo ha anche degli impatti, perché significa aumentare i trasporti evidentemente di questo cibo, significa non controllare completamente la filiera che in loco potremmo controllare, significa anche che questo cibo potenzialmente costa di più. Quindi l'accesso al cibo, se fosse solo biologico, potrebbe essere fonte di disuguaglianza sociale. Chi ha più soldi può permettersi di mangiare biologico, potrebbe essere una delle conseguenze. Non è necessariamente così, però potrebbe essere una delle conseguenze che si possono ovviamente avere rispetto a questo tema. Questo non per sminuire il ruolo del biologico, ma che il ruolo del biologico è uno dei ruoli di uno delle attività che si possono fare per rendere maggiormente resiliente e sostenibile la produzione nel nostro territorio. Il distretto in particolare del biologico è una concezione recente, uno sviluppo territoriale legato a un'area specifica che ha poco meno di dieci anni. Infatti è nato nel 2009 nella zona del Cilento, nell'area in particolare del Parco Nazionale del Cilento e Valle Viviano, nella provincia di Salerno, quindi sud Italia, coinvolgendo 32 comuni di quella zona, oltre 400 aziende, 20 ristoranti, 10 stabilimenti turistici, che hanno deciso assieme di utilizzare, di produrre i prodotti del territorio, prodotti biologici. Rappresenta ancora oggi un vero e proprio laboratorio permanente nazionale, una zona assolutamente interessante, che merita una visita, tra le altre cose, perché attiva, grazie all'opportunità di rappresentare il primo biodistretto, anche una serie di iniziative ad alto profilo culturale, che puntano a uno sviluppo eco e sostenibile del territorio, fondato su un modello prettamente biologico. Calcate che sono 32 comuni che hanno deciso che la produzione di questi comuni, per la gran parte, si sviluppa sul biologico, e che i 20 ristoranti e gli 10 stabilimenti turistici utilizzano prodotti prevalentemente di origine biologica di quella zona. Quindi una concezione completamente diversa, che deriva da un territorio esterno al nostro. Quante sono queste aree geografiche oggi nel nostro paese? Vi dico già che ce ne sono diversi di esempi in tutta Europa, in Italia i distritti biologici sono oltre 40. Al 2019, prima del Covid, erano 32 quelli già costituiti in tutta Italia e 8 erano in costituzione. Quasi tutti e 8 erano in costituzione, attualmente sono ufficialmente stati formalmente costituiti. Questi dati sono di un censimento dell'associazione che raggruppa alcuni biodistretti in Italia e in Europa, che li ha censiti, evidentemente. Sono molto interessanti anche due biodistretti, per esempio l'associazione di riferimento di altre associazioni, come l'associazione Città del Bio, Stato Biologico, nonché il distretto biologico per esempio dei Nebrodi, che si è costituito come distretto del cibo, non specificamente il distretto biologico, e poi vi dicevo altri 7 che sono quelli in costituzione. Ce ne sono alcuni anche nelle zone vicine a noi, molto interessanti, di cui vi parlerò fra poco. Ma perché parliamo di biodistretto? E in particolare perché parliamo di biodistretto per la nostra provincia potenzialmente. Perché tre gruppi di prodotti causano, diciamo questa è la base un po' della necessità per cui esiste anche il biodistretto, uno dei temi che io ritengo più importanti è questo. Tre gruppi di prodotti causano circa il 75% degli impatti derivanti dei consumi. A dirlo non sono io come ricercatore, ma questi sono dati del Ministero dell'Ambiente. Ok? E sono gli impatti derivanti dai consumi. Gli alimenti, il 31%, le abitazioni, il 23,5%, e i trasporti che sono più del 18%. Sono impatti derivanti dai consumi di queste tre produzioni. Le produzioni alimentari rappresentano quasi il 30% o il poco più del 30% del totale, che è veramente tanto. Pensate al packaging, pensate ai trasporti, pensate alla plastica, alla carta, ai sacchetti, pensate alle cassette per l'imballaggio, pensate ai rifiuti, pensate ai trasporti su nave, su treno, su aereo, pensate al frigorifero, i consumi degli alimenti da tenere in frigorifero, in freezer, pensate agli acquisti di plastica per l'imballaggio da tenere in frigorifero, in freezer, pensate al ciclo del prodotto, i grandi freezer e navi cargo che trasportano non cibo nei nostri mari, gli aerei che di notte portano il pesce fresco ovunque. Quindi serve, è urgente, individuare e attuare, oggi, delle risposte appropriate al bisogno che tutti oramai conosciamo, penso sia abbastanza evidente, anche in televisione se ne parla, se ne parla un po' ovunque, di una transizione da un attuale sistema agroalimentare verso sistemi sempre più sostenibili. Alcune produzioni, penso sia evidente a tutti, non sono veramente sostenibili per il nostro futuro, per i nostri figli, per noi stessi, insomma, perché legati a scelte del passato che a loro volta erano legate a situazioni diverse da quelle di oggi e anche a una diversa sensibilità della popolazione, dei cittadini su questo tema. Banalmente e brutalmente, se mi permettete, fino a un decennio fa che il pane e la pasta, dico due prodotti qualsiasi, sulla nostra tavola fossero di quale origine non interessava assolutamente a nessuno. Oggi, se il pane e la pasta che mangiamo non è di produzione italiana, di filiera controllata, sotto casa, delle valate vicine, made in Italy, made in Alto Adige, eccetera, eccetera, molti si rifiuterebbero persino di dirvi che è buono o che è mangiabile o semplicemente decidono di non mangiare questo cibo. Fino a 10, 15, anche 20 anni fa, per andare anche un po' più distante, l'importante era portare a casa il cibo da dove arrivasse, diciamo, pochi andavano realmente a fare le pulci a questa problematica. Certo è che nel tempo per arrivare a produrre cibo per tutti, non sempre sono state fatte le scelte più idonee per eliminare parassiti dalle colture, si è stato fatto uso anche ampio e diffuso e non sempre compatibile di prodotti fitosanitari, diciamo, che non fanno molto bene all'ambiente, non fanno molto bene all'essere umano. Per conto, bisogna dire che adesso si sta un po' esagerando anche su, c'è nata una specie di caccia alle streghe, che qualsiasi cosa non rientri in qualche protocollo di altissimo profilo, non se ne parla, non si può discutere di questo, è che a sua volta sbagliato. Non è solo una questione di sovranità alimentare, ma se puntassimo solo a forme di produzione di nicchia, quale speriamo non sarà quella biologica, ma non potremmo sfamare la popolazione mondiale nella sua interezza, o ci servirebbe una quantità di territorio da sottrarre ad altri usi che è enorme, quasi un terzo in più di quello che stiamo ottenendo adesso, e quindi serve trovare una forma bilanciata, di una transizione da un sistema agroalimentare verso un sistema che sia realmente sostenibile, che abbia a cuore maggiormente il territorio, che a sua volta poi, il terreno in particolare, ma non solo il territorio, e che a sua volta poi permetterà anche in futuro di sostenere l'alimentazione per tutti noi di qualità, e quindi migliorare nel tempo la qualità della nostra vita anche attraverso una migliore alimentazione. Per riprendere le parole di Salvatore Basile, che è presidente di questa associazione che vi ho citato prima, gli scopi di una diffusione di un modello di biodistretto sono quelli di facilitare e sostenere, attraverso anche diverse esperienze territoriali, la diffusione dei sistemi agroalimentari sostenibili, basati sui principi del biologico, come produzione, e dell'agroecologia. Il biodistretto è un sistema di azione, è un modo per migliorare e fare innovazione continua, aiuta a integrare il pubblico e privato, aiuta la partecipazione sociale, attiva degli attori, nella comunità locale, e valorizzano l'agricoltura attraverso in particolare l'integrazione con gli altri ambiti dell'economia, quindi un modo di organizzazione economica, un'auto-organizzazione anche economica e sociale del territorio, e se persegue maggiormente l'approccio bottom-up. Questo dovrebbe essere così. Torno a sottolineare, è una concezione di produzione biologica, che è comunque fortemente dibattuta anche in ambito accademico, scientifico e tecnico, non si discute sul modello in sé, ma sul fatto che sugli impatti, non sempre solo positivi, che potrebbe avere a carattere generale. Ma, vedendolo dal punto di vista positivo, porta sicuramente dei vantaggi. Vantaggio dell'agricoltura biologica, che è una tipologia di produzione agricola in crescita, che attraverso dei protocolli più rigidi permette di superare alcune problematiche che sono rappresentate dall'agricoltura tradizionale. Per il nostro territorio anche potrebbe aiutare sempre più a migliorare la qualità delle produzioni delle nostre vallate, quindi della nostra provincia. Sicuramente ci sarebbe una produzione a livello di quantitativo minore, questo è assolutamente da dire, è vero anche che permette la ripresa e la riproposizione di produzioni agricole nel tempo abbandonate perché ritenute meno produttive. E questo significa portare le produzioni in alto adige a una qualità superiore utilizzando meno sitofarmaci, meno elementi chimici non naturali. E' vero anche che biodistretto non significa solo distretto legato alla produzione biologica, ma legato alla produzione biologica, biodinamica e ad altre forme di produzione agricole che sono meno impattanti sul territorio dal punto di vista chimico e di imposizione di determinati fattori sul territorio e sul suolo in particolare, a favore di un ammiglioramento anche biologico generale del territorio. E questo è l'obiettivo di sostenibilità a medio e lungo termine per il quale stiamo discutendo anche oggi questa opportunità, questo piccolo mio pensiero che lascio sulla opportunità di sviluppare il biodistretto per l'alto adige. Ovviamente per la politica locale è particolarmente interessante. Parliamo di Alto Adige, parliamo di Trentino, parliamo di due province autonome, parliamo della nostra provincia, l'Alto Adige, che ci interessa particolarmente. più distretto rappresenta l'opportunità di induare strumenti innovativi, nuovi di governance, permette nuovi spazi di autonomia per le comunità locali. Questo l'ho sottolineato anche in questa presentazione, ci tengo a sottolinearlo, perché parlare di biologico non è solo la produzione, ma è in chiave più ampia, a 360 gradi, rivalutare tutti i meccanismi, tutte le filiere legate a questa produzione più sostenibile e quindi rendere più sostenibile l'intero territorio. Significa che le persone devono fare delle scelte consapevoli, in maniera autonoma, significa che le nostre vallate, la nostra provincia, può rivalutare un settore come quello dell'agricoltura, che è fondamentale per la nostra provincia, in una chiave per renderla ancora più particolare, ancora più caratterizzante, legate alle peculiarità del nostro territorio, su scala territorialmente più circoscritta. Un più distretto può essere, chiediamoci, il territorio di un piccolo comune, una piccola parte di un comune, una piccola valle, come può essere l'intera provincia. Ai vari livelli, questo significa puntare a una progettazione più coerente con le peculiarità del territorio che si vada ad affrontare, anche a scala diversa, per una maggior consapevolezza delle comunità locali, per nuovi spazi di autonomia. E questo credo sia un punto chiave da stressare anche in una chiave più olistica, che mi piacerebbe, personalmente, vedo come un'opportunità per la nostra provincia di valutare il biodistretto dell'Alto Attice, quindi l'intera provincia come il biodistretto. Inoltre, i biodistretti rappresentano un'innovazione sociale di rilievo, che aiuta a riconnettere le istituzioni con la politica e la popolazione su un tema specifico che è quello della produzione agricola, che è un tema chiave per la nostra provincia. D'altra parte, è chiaro che questo difficilmente si concilia con i tentativi di stabilire su carta criteri oggettivi di individuazione di biodistretti adatti ai diversi contesti regionali. Non è una cosa che vale uguale per tutte le aree che vogliono diventare biodistretto. Noi siamo un biodistretto legato a determinate produzioni, vogliamo caratterizzarci in questo modo come biodistretto, la stessa cosa può essere diversamente applicabile in un altro contesto, ma di sicuro non è un modello esportabile pari pari, uguale uguale in tutti i contesti regionali. Ed è, ed è, ovviamente, molto difficile approcciare l'idea del biodistretto partendo da situazioni che sono invece resistenti a questo tipo di innovazione. Spiego meglio. Le produzioni legate che possono essere coinvolti in un biodistretto sono anche produzioni che riprendono produzioni tradizionali, storiche di un territorio. Ma dobbiamo capire bene cosa intendiamo per produzioni storiche, per produzioni ovviamente legate al territorio su cui vogliamo insistere. Perché per me una produzione tradizionale può essere quella di un alimento che veniva piantato e tramandato con i semi dai miei bisnonni, i miei nonni, per altri le produzioni tradizionali e storiche del nostro territorio sono quelle che invece permettono ai contadini che vogliono continuare un'agricoltura standard classica, mettiamola così, a assolutamente in maniera non nulla in contrario, però alimentare quel tipo di agricoltura estensiva e in alcuni casi anche intensiva per massimizzare la resa, per produrre alimenti visivamente perfetti, però per esempio insipidi, insapori dalla dubbia qualità organolettica personalmente io preferisco altro e preferisco poter assaggiare una moltiplicità come dire il risultato di una biodiversità anche agricola molto 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 alta con meno quantità ma con tante qualità che non sono belle a vedersi ma sono buone a mangiarsi. questa è un'opinione assolutamente personale però per farvi un esempio altri preferiscono invece puntare su un tipo di agricoltura che invece e la ritengono tradizionale storica del nostro territorio un tipo di agricoltura che ha permesso per decenni giustamente alle persone di vivere crescere e lavorare sul nostro territorio. Le due cose non sono in contrasto possono convivere l'una può essere trasformata nell'altro certo è che la trasformazione non è senza evidentemente conflitti o opinioni discordanti e non sempre si può attivare dappertutto questo per dare a Cesare quel che è di Cesare insomma. Vi voglio parlare e approfondire con qualche minuto in più cosa fanno i nostri vicini vi ho fatto vedere poco fa una mappa con i distretti in Italia al 2019 quindi al 2020 possiamo dire perché la mappa non è che sia molto vecchia ma pochi mesi di vita il covid non ci ha permesso di avere mappe anche aggiornate perché nel frattempo ci sono volute un po' le questioni io credo che siano maturi come dire i tempi per tentare una valutazione di queste esperienze che ci sono state fatte altre regioni vicine hanno fatto questa valutazione e hanno deciso di testare di puntare di induare anche tratti comuni per sistematizzare un po' questi aspetti di provare anche in aree vaste a caratterizzare territori interi per successivi pensieri di sviluppo di cui parleremo fra poco mi piacerebbe parlare di fra poco che quindi possono anche essere buone da cui poter prendere delle indicazioni ottime per esempio proporre in un'ottica sempre più sostenibile azioni per il futuro del nostro territorio in tal proposito mi piacerebbe anche lasciarvi come informazione per chi è interessato ad approfondire ci sono delle pubblicazioni dell'associazione italiana sul biologico che ha fatto un'indagine recente proprio sui biodistretti su perché esistono su quali sono le differenze analizzando anche dei casi studio molto interessanti il centro della ricerca per l'agricoltura nazionale del CREA anche a sua volta ha sviluppato delle tematiche molto simili in alcuni progetti di ricerca c'è la rete rurale nazionale che vi invito a guardare il sito internet cercare su internet rete rurale nazionale che ha fatto dei post online sui loro blog dedicati anche ai biodistretti perché è un tema caldo in molte parti d'Italia soprattutto vicino a casa nostra per esempio il Veneto e il Trentino il Veneto ha persino utilizzato i fondi del piano di sviluppo rurale il PSR che esiste anche nella nostra provincia parte di quei fondi per attivare delle sperimentazioni per caratterizzare aree intere o parti di province intere parti di province a distretto ovviamente distretti diversi con caratteristiche diverse fra i quali per esempio mi piace citarvi Bio Verona che è un biodistretto per la produzione della comunità del biologico dell'agrobiodiversità di Verona che comprende anche Valpolicella Baldo Il Garda e la Lessinia che non è un'area piccola voglio dire se andate a guardare la geografia di questi biodistretti Bio Venezia in particolare l'area della Venezia centro orientale e anche un biodistretto dei Colli Ogami per esempio che è un'altra area legata più alla presenza del parco e dell'area attorno al parco dei Colli Ogami sono comunque aree molto vaste ci sono già i siti internet sono tre che sono state recentemente quest'anno formalmente costituiti alcuni sono ancora più legati a un tipo di produzione per esempio il vino altre sono legati ad altre forme di produzione però è un inizio ovviamente di un processo volto a coinvolgere tutte le realtà produttive del territorio e ci sono anche i biodistretti nella nostra regione in particolare ci sono dei tentativi di biodistretto in Trentino e c'è un'iniziativa credo molto interessante recentissima legata al biodistretto del Trentino nell'immagine che vi ho appena postato che si trova sul sito bio.trentino.it è l'immagine che rappresenta la raccolta di firme per una partecipazione pubblica quindi uno strumento referendare un referendum provinciale in Trentino per attivare rendere tutto il Trentino biodistretto distretto che è un po' l'idea che avevo io per l'Alto Adige che ho io personalmente per l'Alto Adige essendo un'iniziativa popolare devono raccogliere almeno 8.000 firme in un lasso di tempo certificate ovviamente ne hanno raccolte pure in tempo di Covid oltre 12.000 quasi 13.000 quindi quasi 5.000 in più di quelle richieste il Covid è limitato alla richiesta io credo che sarebbero tranquillamente arrivati anche a numeri molto più alti quindi diciamo che se passa il vaglio diciamo degli organi che devono controllare queste firme per la presentazione del referendum il Trentino potrebbe andare nei prossimi mesi o nei prossimi anni a votare per trasformare nel tempo attraverso politiche dedicate attraverso una pianificazione una programmazione provinciale complessiva tutto il Trentino verso una produzione di tipo biologica con incentivi provinciali recuperando fondi europei eccetera si tratta di considerare per il Trentino in particolare l'intero territorio provinciale con due distretto con evidentemente una serie di meccanismi per premiare quindi promuovere e incentivare le persone a passare al biologico e le aziende in particolare l'agricole e tutti i soggetti che utilizzano il territorio con modalità sostenibili rispettose della biodiversità rientrano in questo disegno il biodistretto provinciale evidentemente non solo le coltivazioni biologiche agricole ma anche l'allevamento che valorizza le razze autoctone le filiere corte chilometro zero quindi rispettose dell'ambiente l'utilizzo di meno antiparassitari o utilizzare quelli che sono pernessi nel disciplinare del biologico o del biodinamico o delle forme sempre più evolute di queste tecniche di produttione agricola per raggiungere un accordo che secondo i promotori si può raggiungere solo a livello provinciale quindi a livello amministrativo anche fra le istituzioni e i cittadini con evidentemente la partnership stretta dei produttori si tratta di investimenti anche si tratta di una scelta che i promotori hanno pensato fosse utile e bene per la provincia che ha come vi dicevo anche i contro da valutare e la cosa interessante è che è stato proposto come strumento per l'attuazione di una strategia provinciale del genere lo strumento referendario che quindi poi obbligherebbe la provincia a prendere in considerazione e a pianificare le azioni future per orientare come fa per esempio anche la Svizzera o si fa anche da noi su altre tematiche orientare la politica provinciale verso quelle specifiche tematiche da dire che è un impegno che tutta poi la provincia in questo caso del Trentino dovrà fare verso una gestione più sostenibile delle risorse questo è un po' l'obiettivo diciamo di creare un biodistretto del Trentino evidentemente a fronte delle opportunità offerte dai distretti che già esistono o delle potenzialità che biologico ha i numeri sono in crescita anche in Trentino come in Alto Alge come in tutta Italia e in tutta Europa delle filiere legate al biologico molto forte è anche la sinergia che si può creare in un biodistretto come quello del Trentino ma come Dio Venezia Dio Verona Dio Coliogane e gli altri oltre 40 esempi che vi ho portato nella mappa ovviamente la sinergia con il turismo i benefici che si avrebbero soprattutto per il mantenimento della qualità e la bellezza del paesaggio e dell'ambiente sarebbe anche un'opportunità per chi sta lavorando nelle terre alte per evitare possibili trend di spopolamento ora non è un trend particolarmente che affligge il nostro livello provinciale Alto Tesino ma sicuramente mai dire mai in un futuro è bene orientare certi evitare certe dinamiche la provincia è molto attiva su questo per evitare che lo spopolamento si abbia nelle nostre valade questo potrebbe aggiungere un tassello in più uno strumento in più per agevolare l'inversione di tendenza di questo spopolamento anche evidentemente tutto questo ha a che fare anche con le produzioni sempre più sostenibili e resilienti al cambiamento climatico non significa non sperimentare non significa non portare innovazione significa utilizzare un approccio per portare qualcosa di nuovo verso il futuro della nostra provincia e calcolando che i turisti banalmente sono sempre più orientati a acquistare e a godere dei prodotti agricoli ma non solo del territorio e sempre più biologici sempre più che caratterizzano e cercano sempre le nicchie di mercato in un'ottica ovviamente di come dire di sfamare tutti un pochino andiamo ad avere una negatività che va valutata tra l'altro si ha l'opportunità evidentemente di aumentare il valore aggiunto delle produzioni potenzialmente del nostro territorio e quindi accedere anche ai mercati e aumentare la redditività di alcune aree o di alcune produzioni e da noi e da noi il biologico in sé non è che sia ecco abbandonato a se stesso non si faccia produzione biologica o non ci sia come dire una vicinanza dei produzioni dei produttori e degli operatori economici di qualsiasi settore nel nostro territorio il nostro territorio è molto consapevole dell'importanza che hanno le produzioni anche biologiche e biodinamiche per il territorio infatti ci sono molti produttori io vi ho sempre riporto banalmente alcuni dei principali non sono solo questi mi scuseranno quelli che non riesco a citare per la mia scarsa conoscenza di tutti ma banalmente ci sono i bio beef ci sono un circuito di negozi specializzati che portano anche la loro esperienza sul commercio delle produzioni biologiche c'è la produzione della nela di tipo biologico c'è Bioland che partecipa come associazione macro associazione per promuovere l'utilizzo delle forme biologiche nella nostra provincia ma banalmente c'è anche un circuito di bio hotel che ha preso piede ed è una nicchia anche quella di mercato che propongono i loro ospiti esperienze culinarie esperienze di vita quotidiana turistica quindi legata alle produzioni agricole ma non solo agricole diciamo e non gastronomiche mettiamola così a 360 gradi esperienziali legate al cibo al food alle produzioni alla produttività alle tecniche di produzione legate al biologico dinamico eccetera quindi già c'è anche un orientamento in ambito turistico quello che manca da noi è proprio il biodistretto non ci sono biodistretti in alto adice il biodistretto come opportunità potenzialmente potrebbe essere quella di caratterizzare l'intera provincia lo dico perché il Trentino lo sta facendo su iniziativa di un commentato promotore in Veneto vi devo anche dire che oltre a quelli che vi ho citato che non vi ho citato per colpevolmente ma sono adesso nella situazione di poter correggere questo mio errore c'è anche un tentativo di caratterizzare l'intera provincia di Belluno quindi un'altra provincia totalmente montana simile tecnicamente al territoriale alla nostra a biologico tentativo non ancora riuscito per tutta una serie di resistenze giustamente che vi ho anche citato di diversa natura una cosa fortemente evoluta anche dal parco delle Dolomiti bellunesi ma da molti rappresentanti locali sostenuti dalla stessa provincia che ha cercato finanziamenti anche in altre forme a livello europeo per riuscire ad arrivare a capire se e come strutturare eventualmente una provincia completamente bio in montana bene loro stanno ancora lavorando sulla sulla promozione di questa in un modo insomma utilizzando risorse tecniche loro il Trentino lo sta facendo in un altro modo in Lombardia ci sono dei biodistretti c'è una valutazione anche strategica su più di sette anche di valli vicino alla nostra l'altro adige perché non pensare e questa è una domanda aperta evidentemente di cogliere questa opportunità è trasformare la nostra provincia in una provincia bio in biodistretto non soltanto produzione biologica ma legata al futuro delle produzioni agricole di qualità legate alla valorizzazione biologica del nostro territorio quindi perché non cogliere l'opportunità per lavorare come faranno gli amici del Trentino a una strategia che probabilmente si passerà evidentemente il quesito del referendario dovranno farlo a una strategia a lungo termine in ambito agricolo a medio lungo termine non a lunghissimo termine la conversione si può fare anche in qualche anno per alcune cose legata al cambiamento del nostro territorio sempre migliorando la qualità e la biodiversità del nostro territorio perché non non lavorare in questo senso puntando al fatto che il Green Deal europeo così come previsto dalla Commissione dell'Unione Europea già punta come continente a essere il primo continente a impatto climatico zero qual è la strategia nostra e la sappiamo quella in ambito climatico evidentemente ma quale può essere il tassello che si aggiunge che si aggiunge in ambito agricolo per arrivare a quell'obiettivo di continente a impatto climatico zero può la conversione totale della nostra provincia nel medio e lungo termine contribuire e come positivamente al miglioramento climatico anche della nostra provincia dato che la prossima programmazione agricola comunitaria sarà sempre più green e sempre più integrata fra con i vari settori economici collegati perché non pensare di inserire una proposta del genere come strumentazione come obiettivo della nuova programmazione agricola comunitaria che riguarderà la nostra provincia e il nostro territorio dato che a causa del covid siamo in una situazione di crisi e che verranno utilizzati dei fondi legati al recovery fund perché che saranno legati principalmente prevalentemente a una ripresa a una ricostruzione green delle attività economiche e sostegno delle attività economiche green quindi verdi legate al territorio e che biodistretto si allinea esattamente in questa direzione perché non cogliere questa opportunità per poi andare a utilizzare meglio e più efficacemente i fondi del recovery fund con questo obiettivo e siccome il fondo economico per lo sviluppo regionale in ambito europeo che ha chiuso un ciclo di competenza per la nostra provincia abbiamo molto abilmente sfruttato il 100% dei fondi a nostra disposizione e c'è comunque un orientamento della provincia recentissimo e di ieri o dell'altro io un paio di giorni fa quindi stiamo parlando di primi giorni di ottobre del 2020 nella nuova programmazione del FESER del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale per il nostro territorio la prossima programmazione della nostra provincia vorrebbe fosse sempre legata sempre più legata alla trasformazione verde la trasformazione green del nostro territorio perché non fare un matching quindi far convergere queste due opportunità verso l'obiettivo comune di trasformazione green anche in ambito agricole forestale del nostro territorio usando come base come strumento come passatemi il termine cavallo di troia se vogliamo la produzione di tipo biologico e biodinamico quella conversione a biologico e biodinamico delle nostre produzioni io credo che questi temi siano temi di assoluto interesse per la comunità alta tesina la comunità anche della città di Bolzano che ha al suo interno trasformazione di produzioni di produzioni di vitivinicole per esempio ma non solo di alta qualità molti produttori hanno anche parte di produzione a biologico sempre più nel tempo sapendo che è anche un investimento in questo momento trasformare accedere al biologico trasformare e convertirle a produzione biologico e che non tutte le produzioni possono essere facilmente convertite o che tutte le produzioni biologiche onestamente non so quanto siano veramente poi produzioni biologiche perché ci passa la strada di fianco perché l'utilizzo degli antiparassitari non consentiti nel campo di fianco in realtà vogliono affinire anche sul campo biologico ecco perché serve una strategia complessiva di tutto il territorio un orientamento per avere fondi per poter sostenere questa trasformazione per non incidere negativamente sugli agricoltori sui produttori sui trasformatori sul sistema locale attuale per agevolare se mai per incentivare la trasformazione utilizzando anche fonti di finanziamento tra le quali quelle che vi ho citato i fondi che deriveranno nella prossima programmazione europea per esempio ma anche una evidente opportunità per le scelte in ambito politico territoriale comunale di base perché i sindaci non valutano intanto l'opportunità di trasformare il proprio territorio in un territorio vocato al biologico incentivando trovando i fondi in ambito locale chiedendo i fondi in ambito provinciale anche utilizzando i fondi europei per far partire delle come dire delle aree pilota nei loro comuni per aumentare la quantità e la qualità delle produzioni biologiche del proprio territorio è anche un cambiamento di di testa paradigma che coinvolge evidentemente un approccio anche mentale di molte persone che sono restie o che giustamente hanno non sempre sono confortate dai dati che non sempre sono positivi rispetto alle dichiarazioni sul biologico questo è un altro di fatto però io penso come vale per l'elettrico per la mobilità che non è la risoluzione finale di tutti i mali ma è uno strumento utilizzabile per arrivare anche un valido strumento tra l'altro il distretto biologico a livello provinciale potrebbe essere un cungolo potrebbe essere una chiave di lettura che potrebbe spingere molte aree molti produttori molti comuni molte comunità a migliorare la propria qualità di vita la qualità produttiva e quindi indirettamente la qualità di tutte le persone che gravitano attorno alle loro produzioni turisti ma anche residenti che non sono necessariamente interessati alla produzione agricola biologica ma che beneficiano da un miglioramento della qualità del proprio territorio su cui io avrei terminato la mia riflessione perché è uno strumento giovane uno strumento che può essere applicato in un aveto provinciale ma che è applicato banalmente anche solo a livello di vallata o di piccola area geografica come lo sono in realtà gli altri distretti di altre produzioni come possono essere veramente i distretti dell'olio il distretto della scarpa il distretto delle finestre o degli infissi sono tutta una serie di altri distretti cioè la vicinanza di produttori di filiere che permettono di miglioramento anche qualitativo del beneficio recibo di essere vicini per arrivare a una produzione specifica in questo caso si tratterebbe di un'interazione tra più attori che anche di natura diversa che però è la stessa di un distretto più piccolo di altra forma cioè quella di sfruttare le sinergie che si possono avere fra produttori di tipo diverso di cose diverse rivolte anche a stakeholder quindi a fruttori diversi che non siano quelli specifici della produzione agricola credo che la nostra provincia abbia tutte le carte in regola per poter applicare quantomeno un pensiero di ragionare di fare un brainstorming comune noi come istituto di ricerca da sempre puntiamo alla qualità del nostro territorio a migliorare la qualità del nostro territorio la qualità di vita dei nostri concittadini anche cercando di portare esperienze come questa che sono fortemente legate alla sostenibilità del nostro territorio per i nostri figli per il nostro futuro ma anche per me perché non è per niente interessante né assolutamente utile né bello personalmente passeggiare in montagna come passeggiare in pianura attraverso campi infiniti di produzione della stessa cosa senza sentire uccellini senza vedere un topolino qualsiasi animale che no ma vedere tutto bello uguale un po' asettico come prodotto da un'industria non è esattamente quello che è per me personalmente interessante quando vado a visitare un territorio non lo cerco io ma non lo cercano neanche la gran parte dei nostri turisti che preferiscono che il nostro territorio si caratteriszi sempre più di qualità anche da questo punto di vista io credo ci sono ampi margini di manovra quantomeno per discuterne per trovare eventualmente le soluzioni come forse potrebbe essere anche questa ma non necessariamente solo questa per il comparto agricolo per sviluppare idee innovative per legare i turisti all'agricoltura come l'agriturismo l'agriturismo di qualità ma anche come produzioni legate al biologico biodinamico legate alle produzioni dentro i parchi che sono un'altra caratteristica specifica del nostro territorio alle aree protette che permettono produzione di altissima qualità nel nostro territorio per valorizzare l'esistente anche in un'ottica futura mi fermo qui spero ci siano domande alle quali avrò il piacere di rispondere molto volentieri il nostro istituto si occupa di questo abbiamo dei colleghi che si occupano dedicatamente in maniera dedicata di produzioni biologiche anche di qualità a chilometro zero di filiere corte e di tematiche affini ci sono molte altre istituzioni in Alto Adige che discutono di questo io credo sia arrivato il momento per portare anche queste opportunità mettere sul piatto della discussione anche questo e sarebbe molto bello che anche i cittadini si prendessero un pochino a cuore queste tematiche come già stanno facendo sul cambiamento climatico ma anche sul tema dell'agricoltura e valutassero anche questa fra le opportunità che si possono attuare per la nostra bellissima provincia detto questo vi ringrazio per l'attenzione vi lascio ovviamente i miei riferimenti in particolare l'indirizzo di posta elettronica del centro di ricerca per il quale lavoro rispondo sempre volentieri a chiunque e vi chiedo anche di fare riferimento al CEDOX che ospita questa conferenza questa mia chiacchierata sul tema dei distretti biologici un'opportunità per l'Alto Adige e che evidentemente sono anche è uno di tre interventi che farò che potrete eventualmente seguire sulle piattaforme digitali e sul sito del CEDOX come arrivare sul sito del CEDOX cedox.it esiste anche la pagina Facebook dalla quale è possibile accedere al live streaming di questa come delle altre conferenze e vi ricordo che questa conferenza è organizzata in collaborazione su supporto e finanziamento della provincia autonoma di Bolzano la cultura italiana e insieme alle altri centri di formazione dell'Alto Adige vi auguro una buona serata e vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ringrazio